C'era una volta un prato a via Costantino, poi quel prato volevano farci un laghetto, ma non ce lo fecero. Poi in quel prato volevano farci un'isola ecologica, invece guardate che ci faranno. Però non si sa quanto dovremo aspettare. Ecco, questi sono i locali della futura biblioteca. Non pensate che quando entrate dentro trovate questi libri, no? Dentro è tutto vuoto, devono cominciare i lavori. Quando non si sa, però non c'è soltanto questo spazio qui, c'è anche quello spazio lì e quello spazio lì. Vedremo. Vedremo perché. La speranza è l'ultima a morire. Infatti abbiamo anche un ministro che si chiama Speranza. Questa è stata inaugurata pochi giorni prima delle elezioni. Naturalmente, come se avessero messo una prima pietra, perché dentro, come potete vedere, è tutto vuoto. Ci vediamo presto. Grazie. 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 Grazie.